Sottolineare, una bassa imposizione fiscale sulle imprese genera la ricchezza dell'imprenditore, genera la ricchezza di quel paese. Oggi noi abbiamo un tasso di occupazione che malgrado qualche dato in miglioramento rimane bassissimo. Il nostro 56% in realtà è 10 punti sotto la media europea e 15 punti sotto la media tedesca. Allora, se ci sono pochi posti di lavoro, se il paese cresce sotto l'1% e avrebbe bisogno di altri 10 o 15 anni a questi livelli per tornare al livello di più reale pre-crisi, è anche perché le imprese faticano a sviluppare. Allora, possiamo immaginare una politica diversa che non sia il frutto di decido quanto spendere e sulla base della mia decisione di spesa genero il prelievo fiscale, ma immaginare invece un'inversione, una sorta di rivoluzione copernicana per cui partiamo da un eco prelievo e poi la spesa pubblica si fa sulla base di quell'eco prelievo. Non è assolutamente un'idea peregrina, ma un'idea che sfugge alla nostra politica perché il tasso e spendi rimane il light motif purtroppo di troppi governi. Sulle imprese da un lato, ma anche sugli italiani in generale, perché ricordiamoci, l'ha citato lei prima, abbiamo un'imposizione su PIL che è del 43,5%. Allora è divertente fare una retrospettiva velocissima storica. Durante il fascismo la pressione su PIL rappresentava, il prelievo ovviamente fiscale su PIL rappresentava il 18%, a metà degli anni 70 aveva raggiunto il 22-23%. Siamo arrivati al 43,5% a dimostrazione che il MOLOF dello Stato, la macchina dello Stato, si è allargata enormemente e molto più che in altri paesi. Uno, perché da noi l'imposizione cresce, ma in paesi rispetto al 2000, ad esempio in paesi come la Germania o il Regno Unito o la stessa Svezia che nella vulgata passa come il paese dei servizi pubblici, in realtà la pressione fiscale è scesa, dicevo che nel paese cresce, ma la invito se mi dà un minuto ancora a fare questo giochino. Allora, noi abbiamo pressione su PIL, parlo di cittadini a questo punto, del 43,5%. In Germania questa, il dato è OX, è del 39,4%, nel Regno Unito del 34%. Allora, abbiamo provato a chiederci, ma se gli italiani pagassero le stesse tasse dei tedeschi, cioè pagassero tasse su PIL di quantità analoga, beh, pagherebbero 54 miliardi in meno se le pagassero come i tedeschi, se le pagassero come gli inglesi, come gli abitanti del Regno Unito, pagherebbero 138 miliardi in meno, cioè una cifra di gran lunga superiore al deficit. Va ripensato il sistema fiscale, l'intermediazione politica va ridotta, perché così sicuramente non funziona, i dati sulla crescita ce lo dicono palesemente. Questi ultimi 14 anni, cioè da che c'è l'euro, per chi fa parte dell'euro, poi qui ci sono anche i paesi dell'Unione Europea che non ne fanno parte. Come ricordava lei, i paesi che hanno visto la pressione fiscale diminuire di più, incredibilmente in testa alla graduatoria c'è la Svezia, che l'ha diminuita praticamente del 6%. Esattamente, sì. E questo contro, come dire, l'opinione comune che immagina la Svezia prodiga i servizi pubblici che dovrebbero essere, come dire, assorbenti di un'enorme quantità di risorse che invece riesce a ridurle. Ma anche l'Inghilterra, io non ho il mito certo degli inglesi, però in qualche misura sono riusciti a ridurre la spesa pubblica e nel contempo ridurre anche l'imposizione fiscale. A dire che se si spende bene, la riduzione della spesa è possibile mantenendo i servizi ed è possibile contestualmente la riduzione ovviamente del peso delle imposte, però quel paese cresce. Ricordiamoci una cosa, che dei primi paesi europei sotto i livelli di PIL 2007, siamo solo noi e la Spagna, Francia, Inghilterra e Germania da tempo hanno superato quel dato. Una piccola differenza però, che noi l'anno scorso siamo cresciuti di 1,06-1,8%, la Spagna del 3%. Allora, non cresciamo, rimaniamo al di sotto del PIL, incrementiamo il debito pubblico che comunque è riuscito ad una trentina di miliardi l'anno scorso e abbiamo un peso fiscale di questo tipo. Beh, io non voglio fare pronostici di default, però francamente è difficile essere ottimisti. Allora, vediamo un altro aspetto, perché avete scelto per fare la comparazione, è quello dell'equivalente, cioè il tax rate però sulle famiglie, perché a questo punto allarghiamoci anche un secondo alla vita di tutti noi come persone fisiche. Di qui cosa si ricava? Ma si ricava che pensando a un nucleotipo di due genitori che lavorano con due figli a carico, diciamo una famiglia tipo, in realtà ci troviamo in una condizione che rimane di una potentissima attenzione. Cioè siamo al quart'ultimo posto, col 28 e 28%, ma ricordiamoci che la stessa famiglia in Svizzera avrebbe una percentuale sul reddito familiare ordo, il tax rate che non supererebbe il 13,47%. Quindi non è nemmeno che... Cioè nel 50% inferiore insomma. Eh sì, quindi non è nemmeno che si sia fatta una politica, come dire, contraria al mondo imprenditoriale ma proprio alla famiglia, tutt'altro. Peraltro anche contraria al lavoro, la politica fiscale di questo paese, perché ricordiamoci che tra il 2014 e il 2015 è cresciuto anche il cuneo fiscale che è passato dal 48, al 49% e ha guadagnato, come dire, ha guadagnato ma purtroppo perniciosamente negativo un punto. Quindi crescono le tasse sul lavoro, sulle famiglie, sulle imprese, crescono le tasse sul risparmio perché ci sono anche, come dire, le tasse sulle tasse. Noi paghiamo, come dire, le imposte sul nostro reddito, poi andiamo a investire per comprare una casa o andiamo a investire perché compriamo dei banali prodotti finanziari e ci troviamo tassati nuovamente. C'è uno studio che pubblicherà Panorama la prossima settimana che, guardi, le anticipo, l'hanno fatto i nostri ricercatori, dice una cosa purtroppo banale ma anche terribile. Le tasse sul risparmio nel 2015 erano 6 miliardi e 900 milioni, sono diventate 15 miliardi e 100 milioni nel 2015. Cioè più 8,2 miliardi e tasse sulle transazioni finanziarie, top intacti, poste di bollo. Insomma, lo Stato dove può preleva denaro dalle nostre tasse. Mentre vi ripetono che il problema sono gli evasori in Italia, che io non voglio difendere, però vorrei anche che ragionassi un secondo che non è vero. Il problema, ai fini degli effetti di crescita, è come si interviene su un sistema fiscale. A seconda di come si ragioni di dovere provocare degli effetti indotti su un organismo economico, su una società produttiva, sulla distribuzione dei redditi, si propende a intervenire fiscalmente accentuando la pressione in un senso o diminuendola in un altro tra imposte sul reddito delle persone fisiche, imposte sul reddito delle società, delle persone giuridiche, imposte patrimoniali, imposte indirette. A seconda di quale leva si usa, si ottengono degli effetti che sono, più o meno, studiate la teoria della serie storica, degli effetti deliberati, che dipendono, se volete, per esempio, diminuire la tassazione sui redditi, volete privilegiare, per esempio, la creazione di flussi di reddito, e magari a quel punto, a senso che voi possiate, in presenza di forti riduzioni della tassa sul reddito, accentuare l'imposto sul patrimonio, per paesi molto patrimonializzati e a bassi redditi, come nel nostro paese, per esempio, grazie al fortissimo tasso di risparmio delle famiglie, potrebbe avere un senso, per alcuni, di tassare di più patrimonialmente, ma tassare molto meno i redditi, al fine di voler realizzare uno smobilizzo dei patrimoni a favore dei redditi e dei consumi. Oppure, potete diminuire la progressività dell'imposizione sui redditi, compensarla con qualche intervento sui risparmi e, a quel punto, ritoccare, invece, le imposte indirette, che, come noto, sono regressive. Ma, a seconda di quello che voi abbiate in testa, ha senso dosare le diverse leve. C'è un solo paese che, contemporaneamente, in tutti questi anni, ha alzato, contemporaneamente, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche, le imposte indirette, la liquida IVA, e le imposte patrimoniali, sia sugli immobili che sul risparmio, sui fondi previdenza, complementari privati, eccetera, eccetera. Questo paese, l'Italia, facendo così, è riuscito ad abbattere sia i patrimoni, sia i prezzi dei valori immobiliari sulle case, sia i redditi, sia i consumi. Ma perché è l'unico paese che pensa che il fisco serva solo a rispondere alla sette dello Stato, nonché, a seconda delle leve che si impugnano, si determinano degli effetti conseguenti. Fermiamoci per un minuto. Eccoci tornati in diretta qui con Massimo Blasoni, fondatore e presidente del Centro Studi Impresa e Lavoro, imprenditore. Stiamo parlando dell'Indice della Libertà Fiscale 2016, che è stato redatto dal Centro Studi Impresa e Lavoro, con diversi indicatori che paragonano 29 paesi europei, quindi membri dell'euro e non dell'euro, graduatoria finale ponderando i diversi indicatori, l'Italia arriva ultima con l'indice 39 rispetto a Svizzera, che sta a 75 come indice della libertà fiscale. Dopo la Svizzera, l'Irlanda, l'Estona, la Romania, l'Ettonia, eccetera, eccetera. La Germania è comunque con l'indice 52 rispetto al nostro 39, il nostro diretto concorrente manifatturiero da molti, dipinto come l'Uno che ci impone le sue regole, come se l'aumento popolare di Vicenza fosse fallito per colpa dei tedeschi, per così dire. Ma molti giornali lo scrivono, per carità di Dio. Che ridere. Allora, abbiamo visto come il nostro paese abbia avuto una singolarità in questi anni, mentre altri o abbassavano il prelevo complessivo, ma comunque utilizzavano le diverse leve fiscali, imposte sui redditi, imposte sui patrimoni, imposte indirette, per determinare finalità più o meno commisurate alla specificità del mix economico, dei livelli di patrimonializzazione e di reddito. Noi abbiamo alzato tutti i tipi di prelevi e così abbiamo strangolato un po' tutti. Come mai, secondo lei, Blasoni? Cos'è ignoranza basilare degli effetti delle diverse leve fiscali? Non credo proprio, perché i ministri che si sono... Guarda, adesso non vorrei prenderla da lontano, cercherò di essere brevissimo, però direi che dalla stessa Costituzione, la fortissima presenza anche di rilevanti partiti di sinistra, abbia fatto sì che nel nostro paese, non voglio dire che ci fossero contaminazioni al socialismo reale, però oggettivamente ci fosse una presenza dello Stato molto rilevante. Allora questo perimetro dello Stato così vasto non poteva che nutrirsi di due cose, imposte e tasse, che a questo punto erano dirette e indirette, ma anche debito pubblico. E quindi la politica per gestire i processi e pretendere di redistribuire le risorse aveva bisogno di quantità di denaro infinite. Però creare i posti di lavoro con i forestali che non andrebbero assunti o con le inefficienze della macchina pubblica o avere uno Stato che mette le mani in economia e che non presidi, avvigila e regola, ma che pretende anche di operare, ha generato dei spazi incredibili. Solo che a risolvere questi spazi non si è adottata la misura contrapposta di ridurre le tasse, provare a ridurre il perimetro dello spazio, ma di volta in volta si è rilanciato aumentando il debito, che continua ad aumentare, e aumentando le imposte. Nei cittadini c'è poca consapevolezza. Io sa che i cittadini hanno oramai incamerato l'idea, che del resto va scritta oramai anche su solo 24 ore, tutti i giorni, che in crisi, con questioni di crisi che abbiamo alle spalle, chi predica il Taro della spesa è un imbecille, un ignorante, perché non sa che il Taro della spesa pubblica significa una diminuzione del PIL. Noi dobbiamo difendere la spesa dello Stato, perché la spesa dello Stato genera ricchezza, è tutta orientata a pagare in tempo ovviamente i fornitori pubblici, come è noto, non ha usato per decenni un numero di precari così sconsiderato nella scuola, e chi parla di ridurre queste cose ovviamente vuole semplicemente far diminuire il PIL, è un ideologo, questo è ciò che è stato ripetuto in maniera sempre più incessante dai media italiani, compresi quelli degli imprenditori. Dobbiamo avere la forza di spiegare che così non è e quando l'ha citato lei lo Stato, allora mettiamola così, quando un cittadino o un'impresa debbono pagare le tasse, se non lo fanno, quella gabella non pagata determinerà immediatamente l'aggressione di Equitalia, le ganasce fiscali e quant'altro. Lo Stato paga quanto vuole perché continua a pagare a 144 giorni i suoi debiti ed è arrivato di nuovo a 70 miliardi di debito nei confronti delle imprese con un costo sulle imprese in diretto che è di 5-6 miliardi perché quelle imprese per fornire sono dovute andare in banca anticipare i crediti e quant'altro. Ma al di là di questo, rimane un dato di minorità del cittadino rispetto allo Stato. Proviamo a metterla così, facciamo un esempio. Nessuno di noi crede che l'Inps sia un ente che gestisce bene i nostri soldi. L'Inps oggi ha 25 mila immobili, sono valutati 3 miliardi e 200 milioni, anche l'anno scorso è riuscito a perdere 100 milioni di euro dalla loro gestione. Aveva un patrimonio netto 5 anni fa di oltre 40 miliardi e sceso 1 miliardo e 6 quest'anno malgrado la ricapitalizzazione di 25 milioni, cioè a dire che l'Inps perde tra gli assegni pensionistici che deve pagare i contributi versati più di 11 miliardi l'anno che pesca di fatto nella fiscalità generale, a 104 miliardi di crediti di sofferenze, diciamo così, paragonandola a quelle bancarie che non riesce a recuperare, però, e vado al dunque, se io domani mattina non volessi più pagare i contributi Inps perché preferisco rivolgermi al mercato privato, non lo potrei fare. Allora bisogna spiegare ai cittadini che lo Stato non è un molo pervasivo, ma che forse abbiamo il diritto di chiedere che sia meno esteso e di chiedere che con efficienza i nostri soldi possiamo talvolta gestirli direttamente e che l'attività di redistribuzione deve avvenire in alcune situazioni a sostegno dei più deboli, ma non deve essere il tentativo di raccogliere consenso, non deve essere il tentativo di risolvere i problemi dell'occupazione in maniera del tutto errada. No, ma anche perché poi la finalità a sostegno dei più deboli nel nostro paese noi in realtà uno strumento universale di lotta alla povertà non ce l'abbiamo, cioè la redistribuzione la facciamo come nel caso degli 80 euro, a favore di chi magari un reddito ce l'aveva, ma non erano i pensionati al minimo e non erano coloro che sono sotto la soglia di incapienza. Quindi io contesto anche il fatto che la redistribuzione pubblica serva davvero a chi ne ha bisogno perché i fatti dicono che non è vero, infatti le soglie di povertà relativa sono cresciute in questi anni. Quindi è una questione politica, spesso la redistribuzione è fatta strezzando l'occhio quando le elezioni si avvicinano, come testimoniano dal fatto che i redditi di cittadinanza delle città e delle regioni si sprecano sotto elezioni annunciate. Allora grazie a Massimo Blasoni con Grazie a tutti.